Fare comicità su cibo e sostenibilità ti fa venire in mente battute favolose, tipo un fungo entra in un caffè. No eh? Ho letto che a Tilburg, in Olanda, c'è un'associazione privata che coltiva funghi utilizzando come concime i fondi del caffè, raccolti in bar o ristoranti della città. Perché i fondi del caffè sono come degli scarti magici. Io li uso contro i cattivi odori, contro l'invasione di formiche, ma per coltivare funghi mai. Considerando quanto caffè beviamo in Italia potremmo diventare i massimi esportatori mondiali di funghi. Con solo un piccolo problema. Per me è un porcino macchiato, caldo, schiumato, ristretto. Per me è un defungato in tazza grande. Comunque, i fondi del caffè sono il futuro. Come lo so, l'ho letto nel fondo del risotto ai funghi. Come lo so, l'ho letto nel fondo del risotto ai funghi.